I ministri Adolfo Urso e Nello Musumeci bloccati dall'incendio nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino sembrava iniziata male la prima serata della piazza a Ceglie Messapica, poi due colpi di teatro. Gian Bruno, che sbuca dalla vicina masseria a beneficio, sale sul palco all'improvviso e intervista all'amico amministratore delegato di RFI Giampiero Strisciuglio. Poco prima prove tecniche di collaborazione tra PD e 5 Stelle con Alessandro Alfieri e Stefano Patoanelli a promettersi fedeltà per il campo largo che sancirà, secondo loro, una volta vinte le elezioni, la salita a Palazzo Chigi per Eli Schlein, presidente del Consiglio. A riportare tutti alla realtà ci pensa Augusta Montaruli che intanto promette coesione interna nel centro-destra a prova di Ius Schole e che sciorina i numeri vincenti del governo Meloni dall'aumento degli occupati ai numeri dell'economia. Bravo e pungente, come sempre, Angelo Perrino in questa sua piazza, nata nel 2017 da un incontro estivo tra lui Marcello Antelmi e il sindaco dell'epoca e oggi consigliere regionale Luigi Caroli. Ma torniamo a RFI. Impegni importanti per la Puglia, sottolinea il microfono di Nicola Pastore. Per parlare di sviluppo e di turismo ovviamente dobbiamo parlare di collegamenti puntuali. Gli investimenti in Puglia sono tantissimi dal punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, ci sono le grandi opere di collegamento della Puglia con il resto del paese, l'alta velocità Bari-Napoli che in realtà prosegue fino a Lecce, lo sviluppo che abbiamo lanciato della direttrice adriatica e una serie di interventi importantissimi in tutte le grandi aree metropolitane della regione, ovviamente sia per il miglioramento della mobilità dei passeggeri ma anche delle merci. Su questo grande attenzione ovviamente anche sul porto di Taranto dove abbiamo degli interventi importantissimi per lo sviluppo delle attività logistiche a servizio del porto di Taranto che crediamo possa essere una realtà significativa come piattaforma ovviamente del nostro paese per il rilancio del traffico merci anche ferroviario a partire insomma dal ruolo che può avere nel Mediterraneo. Quindi grande infrastrutture, gli interventi ammontano a più di 11 miliardi di euro complessivamente solo nella regione Puglia e sono in grande fase di realizzazione, quindi sono delle realtà concrete, muoviamo i ventieri, muoviamo queste infrastrutture per lo sviluppo del Mezzogiorno e della regione Puglia. A chiudere la serata ci penserà Antonio De Caro che proprio rivolto a RFI ha detto di rinvio in rinvio passa il tempo e ancora questa regione continua nel 2024 ad essere penalizzata nei collegamenti ferroviari e il nostro pensiero va ai governi che negli ultimi decenni hanno eluso il problema.